Ciao a tutti e bentornati, oggi vi parlo di un nuovo reboot, i Fantastici 4, non ora però dopo il video. Qualcosa è apparso, mi ha inseguito, mi ha afferrato, mi ha strappato il vestito, non è mai successo, e se andasse da quelli che lo chiamano, ci hai pensato? Questa cosa finirà, io voglio che si fermi, non cercare di scoprire cos'è, lo stai portando da noi, non sarà vittima di una specie di scherzo, Smiley vuole uccidermi, aaaaaaah! Simon Kinberg, già sceneggiatore di X- Days of Future Past, dovrà fare i conti con un nuovo gruppo di supereroi, quali? E ve l'ho detto prima, i Fantastici 4, è infatti da qualche giorno la notizia che gira, la notizia è che ci sarà un reboot del cinecomic Fox, diretto da Josh Trank. Kinberg è il terzo sceneggiatore scelto per la revisione di questo script, e dovrà lavorare in maniera consistente, visto i continui e precedenti aggiustamenti. Lo sceneggiatore ricoprirà anche il ruolo di produttore al fianco di Matthew Vaughn. Nessuna informazione invece sul cast del film, anche se i rumors dei mesi scorsi vedevano coinvolti Michael B. Jordan, Alison Williams e Miles Teller. E per oggi è tutto, iscrivetevi al nostro canale YouTube se non l'avete ancora fatto, così restate sempre aggiornati sugli ultimi trailer in uscita. Ciao, alla prossima!